La Versilia registra un'impennata da record nella raccolta differenziata nel 2017, lo dicono i dati forniti da Ersu nei 5 comuni costieri serviti. In un anno, compresa la New Entry Montignoso, sono state raccolte 35.404 tonnellate, il 5,8 in più rispetto al 2016. Ovunque è calata la produzione di indifferenziato, ovvero dei rifiuti da portare in discarica. È una vera e propria classifica, quella stilata dall'azienda dei rifiuti, che insieme alle amministrazioni comunali sta accelerando ovunque per l'estensione della differenziata e del porta a porta. Il primo comune è Pietrasanta, che in un anno ha visto una crescita addirittura del 10% grazie alla copertura, estesa a tutto il territorio e all'intesa raggiunta coi balneari. Promosso da Ersu anche il centro di raccolta del verde, introdotto dalla giunta a Mallegni, a suo tempo contestato. Il verde, portato all'impianto dei cittadini, è stato superiore, nelle tonnellate, anche se di poco, a quello che veniva raccolto a domicilio, dove da lunedì partirà una nuova fase del servizio di prossimità in montagna, in crescita Forte Remarmi e soprattutto Massarosa, che in questo 2018, anno di svolta, ha esteso il porta a porta alle colline settentrionali. Fanalino di Culdastazema, nonostante le difficoltà dovute alla conformità montana del territorio, è comunque in netta crescita. Io credo che non sarà possibile continuare ad avere risultati così eclatanti anno dopo anno, perché salire dal 70% all'80% è già un grosso risultato, quando si comincerà a salire dopo l'80% all'85% non sarà possibile far dei salti di grossa entità, bisognerà accontentarsi di risultati sempre positivi, sempre in crescendo, ma comunque certamente limitati. Ci sarà una campagna promossa da Aersu, in collaborazione con le amministrazioni, di ritorno ai cittadini delle informazioni. Quindi faremo un piccolo pample, un foglietto illustrativo, in cui ringraziamo tutti i cittadini che hanno contribuito, che sono loro i veri attori della raccolta differenziata, che hanno contribuito a raggiungere questi obiettivi.